Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Elvis, ultimo film di Buzz Lurman, uscito nelle sale italiane il 22 giugno e che aspettavo con trepidante attesa. Non ho visto il film al day one, non l'ho visto il 22 giugno, l'ho visto due giorni dopo, quindi il 24, e se vogliamo per forza trovare una scusa, ero ancora in tempo, visto che il 24 giugno è il giorno in cui il film è uscito nelle sale americane. Non posso però trovare più di una scusa per questa recensione giorni e giorni dopo aver visto il film, ma c'è stato davvero tanto caldo, c'è anche ora, ma prima o poi avrei dovuto comunque registrarla questa recensione, quindi mi sono messo qui. E poi comunque ho avuto alcuni impegni, quindi ho dovuto per forza rimandare. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok. Soprattutto su Instagram, sul mio profilo principale, ho salvato una cosa che mi è successa qualche giorno fa, ovvero una conversazione abbastanza strana in DM, quindi in privato, con un hacker che stava cercando di rubarmi il profilo. In descrizione trovate anche il link di Pampling, sito di t-shirt e articoli nerd, dove troverete la t-shirt che indosso oggi a tema The Big Bang Theory, The Simpsons in realtà, è un mashup come molte cose su Pampling, ma trovate anche, e ancora per poco, fino al primo luglio, la t-shirt di Stranger Things dell'Hellfire Club. Vi informo, come sempre, dell'esistenza del codice Il Pensiero 4, che vi permetterà di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello, e queste calze vi verranno a costare solamente 0€, perché infatti sarà un regalo del codice e del sito. E in questo modo, naturalmente, supporterete il canale, per questo vi ringrazio. La recensione di oggi sarà divisa in due parti, la parte senza è con spoiler, anche se trovo stupida la divisione in due, visto che comunque stiamo parlando di un biopic, un film su uno degli artisti più famosi e conosciuti al mondo, quindi spero di non ritrovarmi poi nei commenti qualcuno offeso dal fatto che mi scapperà sicuramente nella parte senza spoiler di dire che Elvis alla fine muore. E anzi, l'ho appena detto. Io non sono mai stato un grandissimo fan di Elvis. Conoscevo alcune canzoni, non le conoscevo tutte, non le ascoltavo, e della sua storia conoscevo poco e niente. È nato, nel 35 se non sbaglio, sapeva cantare, suonare, ballare, aveva i capelli, che è un dato abbastanza importante, ha fatto tante canzoni, ha fatto tanti film, è diventato tanto, tanto famoso, faceva uso di sostanze poco raccomandabili e alla fine è morto. Davvero non sapevo nulla di tutta la storia che c'era dietro Elvis, il manager che qui è interpretato da Tom Hanks, e poi parliamo comunque delle interpretazioni in questo film. Il primo contatto che ho avuto io con Elvis Presley, e penso sia lo stesso di tutti quelli della mia età o comunque della mia generazione, è Lilo e Stitch. Io sono nato nel 2004, Lilo e Stitch è un film del 2002, e sono cresciuto diciamo con quella visione per Elvis Presley, con quelle canzoni. Ma della sua storia, ripeto, poco e niente. Questo film quindi mi è piaciuto? Domanda principale prima di iniziare a parlare dettagliatamente del film. film, sì, e mi è piaciuto anche molto. Del regista Buzz Lurman non conoscevo tutti i film e men che meno li avevo visti. In vita mia probabilmente avrò visto solo qualche scena di Moulin Rouge e forse qualche parte di Romeo e Giulietta, per quanto riguarda Buzz Lurman. Ma prima di vedere il film, prima di vedere Elvis, ho voluto recuperare alcuni dei suoi film, se non tutti. Mi manca in realtà solamente la seconda parte di Australia, che sinceramente mi stavo un po' annoiando, e Il Grande Gatsby, che non ho mai visto. Poi invece gli altri film, compreso Ballrooms, che è il primo di Buzz Lurman, li ho visti. Per quanto riguarda invece Elvis, voglio iniziare parlando di una delle cose più spaventose del film, ovvero la durata. Per quanto mi riguarda, vedere quel 2,46 di minutaggio prima di entrare in sala mi aveva un po' spaventato, perché solitamente i film lunghi mi spaventano, questo è sicuro. E se devo essere proprio sincero, comunque la durata del film si è sentita, e anche tanto. Colpevole per quanto mi riguarda il ritmo del film, che in realtà si divide in due. Una prima parte molto frenetica, e poi ne parleremo più nello specifico, e una seconda più lenta ma più dettagliata. Nella prima parte vediamo l'ascesa di Elvis da ragazzo semplice, che si esibisce così un po' per gioco, a quello che comunque è stato per molto tempo Elvis Presley. Il problema è il modo in cui viene raccontato tutto ciò. In questa prima parte passano anni, passano tanti anni, ma vengono mostrati in, si e no, 30 minuti? Per la prima parte ho provato una sorta di confusione, una perdita di orientamento, e quindi probabilmente è questo che mi ha fatto sentire la durata della prima parte. Quello che vedevo comunque mi piaceva, non mi stavo annoiando. Si sente la durata ma non mi sono annoiato, questo è sicuro. A metà film la storia raggiunge una sorta di stallo, si ferma per un po', per poi comunque ripartire ma molto più lentamente. Ci sono meno anni raccontati e vengono raccontati più dettagliatamente. E anche in questo caso, all'opposto della prima parte, ho sentito la durata proprio per questo. E anche in questo caso, ripeto, quello che vedevo non mi stava annoiando. Però ho sentito che si sono concentrati su alcuni dettagli della vita di Elvis, della seconda parte della vita di Elvis, che avrei preferito vedere un po' più all'angolo, un po' più messi da parte, per concentrarsi su cose che mi interessavano di più. È una cosa che in realtà è successa anche nella prima parte, ma lì è tutto più frenetico, quindi non ci fai nemmeno caso. Per esempio all'inizio del film si parla molto di razzismo, è uno dei temi centrali della prima parte del film, ma è un dettaglio che viene però perso col tempo, e nella seconda parte non ha assolutamente più un legame con questo Elvis. Stessa cosa per i problemi che Elvis ha avuto con le pillole e con le droghe. Avrei preferito che si fossero concentrati di più su questa cosa, e invece viene raccontata un po' a metà film e poi ripresa solo la fine. Ma comunque si sa che nella storia di Elvis è una cosa molto importante, però capisco che comunque questo non deve per forza essere un film distruttivo, diciamo così, nei confronti di Elvis. È un biopic molto semplice, solito biopic che non mette solamente le luci di un certo artista, ma mette anche le ombre. Però in questo caso ci sono diversi tipi di ombre, e hanno deciso di metterne alcune da parte. Poi boh, magari questa concentrazione in questi dettagli è messa nell'extended cut, perché Vaz Lurman ha detto che c'è una versione di Elvis di 4 ore. Non so se avrò mai la possibilità di vederlo, non so se verrà messo in qualche versione un video. Se sarà nella steelbook cercherò di vedere questa seconda versione da 4 ore, per avere anche comunque una visione completa, anche se questa recensione sarà solo per la versione cinematografica, naturalmente. Devo però anche parlarvi di uno dei problemi che ho riscontrato. Durante tutta la durata del film, quindi di 2 ore e 40, ripeto, non ho sentito che Elvis stesse diventando l'Elvis di cui si parla oggi. Ora, io non ero ancora nato nel periodo tra il 35 e il 77, quindi non so qual è stata effettivamente la reazione del mondo, la reazione oggettiva quindi di presenza nei confronti di Elvis, ma mi sembra sinceramente un po' diversa da quella che viene fatta vedere nel film. Sarà per il modo di raccontare, sarà per il modo in cui vengono presentate alcune cose, ma per la maggior parte non mi sembra che questo fosse l'Elvis di cui si parla. Ora che ho parlato del difetto più grande, secondo me, a parte comunque la durata che non è un difetto, o meglio lo è in parte, voglio parlare dei pro di questo film, dei pregi, partendo fin da subito dalla regia. La regia di Buzz Lurman è sfavillante, ho avuto modo di conoscere e di apprezzarla anche in film come Moulin Rouge o Ballroom. E di quest'ultimo ci sono tanti rimandi in Elvis. La regia di Lurman si nota fin da subito. E quindi questo è uno di quei film che, se non mi avessero detto che alla regia c'era un certo, c'è un certo regista, me ne sarei accorto comunque. Ovviamente dopo aver visto i film, quindi è una sorta di paradosso, perché se non avessi saputo che Elvis è stato diretto da Buzz Lurman, non avrei recuperato i suoi film e quindi, vabbè, non avrei riconosciuto il suo stile. La musica nel film è molto importante, anche se l'avrei preferita un po' più al centro, visto che comunque stiamo parlando sempre di Elvis. Il film si concentra molto di più sull'effetto, sulla reazione che il personaggio di Elvis ha avuto sul mondo intero. Ci sono tante critiche sociali che si adattano tanto al periodo di Elvis del tempo, naturalmente, ma anche a quello attuale. E non parlo solo di razzismo, ma anche di bigottismo e ideologie strane che esistono tuttora. Ripeto, ci sono tante critiche sociali. Mi è piaciuto, e non per questo infatti una delle mie scene preferite è... questa. Capirete se avete visto il film. Parliamo degli attori. Per quanto riguarda il protagonista, che interpreta appunto Elvis, l'attore si chiama Austin Butler, è stata, diciamo, una scommessa, anche se il film comunque l'ho visto in italiano, quindi doppiato. Non ho mai visto un film con Austin Butler, tralasciando, vabbè, il piccolo ruolo che ha avuto in C'era una volta Hollywood, però non era un personaggio così tanto importante. Se devo essere sincero, visivamente conoscevo Austin Butler da anni, visto che è stato uno dei personaggi di Zoe 101, che era una serie che comunque da piccolo vedevo. Però capite che c'è una certa differenza tra Zoe 101 e un film come Elvis. Quindi è stata una scommessa. Scommessa stravinta per lui, perché è stato davvero molto molto bravo. Sia a livello ricettativo, ripeto, il film l'ho visto in italiano, non vedo l'ora di vederlo in originale, ma il mio complimento si fa tanto sul fatto del canto, del ballo, o comunque della somiglianza in generale con Elvis Presley. Quindi davvero molto molto bravo Austin Butler, che sembrava davvero l'originale. Poi, le muovenze erano quelle. L'aspetto non così identico, ma molto molto simile. Sicuramente nelle battute finali, con molto trucco addosso. Ecco, lì mi sono confuso riguardo una scena, proprio la scena finale, una delle scene finali. Non riuscivo a capire se era Austin Butler o il vero Elvis. E penso che questo non sia dovuto alla mia stupidità eccessiva, ma proprio che il trucco era fatto davvero molto bene. Al contrario di Austin Butler, Tom Hanks, che qui interpreta il colonnello Parker, non era ovviamente una scommessa. Qui anche lui, come Austin Butler, anche se per tutto il film, è pieno di trucco, di cose che lo rendono diverso dal Tom Hanks che conosciamo di solito. Ma nonostante questo, essendo comunque Tom Hanks, ha dato un'ottima interpretazione. Lo dice anche lui all'inizio con qualche battuta, pensano che io sia il cattivo. E forse sono anch'io di questa idea, in realtà. Grandi gli attori, ma anche grandi i doppiatori, Maurizio Merluzzo, che qua dà la voce al protagonista, è riuscito a emulare il modo di parlare che aveva Elvis, così con poca voglia di parlare. Ma grandissimo anche Angelo Maggi, che qui ovviamente dà la voce a Tom Hanks nel ruolo del colonnello Parker. Il finale strappa lacrime, naturalmente, sia per i fan che i non fan di Elvis, almeno per me è stato così. E proprio per questo io non penso di giudicare questo film come un biopic atipico. Ho letto anche delle recensioni che lo definivano più che come un biopic su un cantante, un origin story su un supereroe. No, secondo me no. È un semplice biopic. Strutturato nello stesso modo, per esempio, di Bohemian Rhapsody, ti mostrano sì l'origin story, diciamo così, del protagonista. Qui la mostrano veramente in modo veloce. Poi dopo l'ascesa ti fanno vedere le luci e ombre dello stesso personaggio. Poi una sorta di caduta, magari una ripresa, cosa che qui non c'è stata così tanto in Elvis. Non c'è stata una ripresa eccessiva del cantante. Diciamo che è finito un po' in caduta, almeno da come lo hanno presentato qui. E poi appunto la parte finale strappa lacrime con tutte le didascalie finali, con tutto quello che è successo dopo, quello che abbiamo visto nel film. Un biopic nella media, quindi. Piccola parte in voiceover, perché naturalmente durante la registrazione mi sono dimenticato a dare un voto al film ed il voto per Elvis è un 8. Mi è piaciuto. Penso sia uno dei migliori film del 2022, ma non lo reputo un capolavoro assoluto come stanno dicendo in molti. Secondo me l'8 è un voto più che azzeccato. Dico veramente due cose nella parte spoiler, quindi se ancora non avete visto il film, uscite dal video e tornate solamente dopo averlo visto. Di cosa posso parlare in una parte spoiler se non proprio delle scene nello specifico come vengono presentate? Prima ho parlato della confusione, della mia confusione riguardo il capire se quello sullo schermo fosse l'Elvis vero oppure Austin Butler e sto parlando naturalmente della scena in cui lui canta per l'ultima volta, quando appunto il colonnello Parker introduce la scena con sono riuscito ad andare a vedere Elvis qualche settimana prima che morisse e a parte ad essere comunque una delle scene più belle del film, per come è presentata, per quello che vediamo e in generale mi è piaciuta molto, ad un certo punto si passa da Austin Butler a Elvis Presley e mi sono accorto solamente dopo di questo cambiamento, quindi grandi, grandi davvero. Visto che l'ho citato, il colonnello Parker finisce il film con un monologo, un monologo che ho apprezzato tantissimo e che ti fa apprezzare anche il personaggio in quanto antagonista sotto certi punti di vista. Una frase mi è rimasta impressa del colonnello, ovvero in molti pensano che ad uccidere Elvis sia stato il cuore perché è morto di infarto. Alcuni pensano alle pillole, alcuni pensano che sia stato io ma io credo fermamente che ad uccidere Elvis sia stato il vostro amore impossibile da ricambiare, una cosa del genere. Ed è una cosa che si vede nel film, si vede anche tanto. Ma ragazzi, ho registrato per quasi 40 minuti, sicuramente il video non sarà mai di 40 minuti perché dovrò tagliare tanto visto che con questo caldo io non connetto. Fatemi sapere cosa ne pensate di Elvis con un commento, se volete fare spoiler, se vogliamo chiamarli così, contrassegnate il vostro commento con la dicitura spoiler, poi lasciate qualche spazio così da far comparire la didascalia, leggi tutto solito dai commenti così poi da scrivere il vostro messaggio da non spoilerare a chi ancora non ha visto il film. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il link dei miei social e il link di Pampling codice alpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!